o buon pomeriggio oggi facciamo un bel giretto andiamo verso il lago di garda passiamo dal lago di cavedine facciamo arco e veniamo sul lago di tenno adesso mi preparo e dopo abbiamo fuori la bicicletta acqua oggi è anche una bellissima giornata il sole perfetto possiamo salire e partire adesso sono insiclabile da punte arche a sarche tutta in mezzo alla natura in mezzo agli alberi in mezzo alle montagne guardate che spettacolo guardate che cielo ci siamo in una località sarche adesso andiamo verso il lago di cavedine eccovi a voi il lago di cavedine questo è il bellissimo lago che si vede passando con la bicicletta da delle montagne lui che servono le montagne la pavanella proprio uno spettacolo allora arco l'abbiamo passato arco l'abbiamo passato adesso sta scalando un varone per rilasciare al lago di tenno con il mio ritmo e vediamo di arrivare almeno in cima al passo del ballino cioè circa 7 8 chilometri siamo al lago di garda visto da sopra a 3 chilometri dal lago di tenno veramente un spettacolo che panorama che panorama adesso salita verso il passo del ballino con questo falso piano salita dipendenza tra il 7 e il 10 per cento ci riverò mistero e anche a fiave ci siamo arrivati a 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 campanellina per ricevere le notifiche seguitemi su tutti i miei social network instagram e facebook e noi ci rivediamo nel prossimo video chau chau